I punti forti sono sicuramente la volontà di andare a creare una relazione diretta con le persone che abitano nel quartiere e diventare un punto di riferimento per il quartiere, per le problematiche elettriche e per creare un rapporto sicuramente di fiducia con queste persone. I punti forti sono sicuramente la trasparenza dei prezzi, come vedete sono comunque ben esposti in negozio, poi la selezione del personale che è tutto personale diretto, ha diretti dipendenze della nostra azienda che comunque è sul mercato da oltre 20 anni, quindi non sono i nostri sconosciuti che possono magari entrare nelle abitazioni delle persone senza avere un minimo di garanzia di chi siano e da dove arrivano, quindi deve diventare un rapporto, non dico di amicizia perché sono esagerati, però sicuramente è un rapporto di fiducia. Il punto principale e più interessante secondo me è che a noi interessa la città di Milano perché la conosciamo bene, la nostra attività come dicevo da oltre 20 anni è su Milano e quindi sicuramente i prossimi punti perlomeno diretti, quindi di una nostra rete interna saranno sicuramente sulle città di Milano.